Ciao io sono Tommaso e oggi impariamo a fare una speed ramp con DaVinci Resolve Che cosa è una speed ramp? È la velocizzazione, una rampa di velocizzazione che si utilizza solitamente partendo da una velocità 100% per andare a velocizzarla o da 0% a 100% o da 100% a 0% insomma si va ad aumentare morbidamente la velocità di una clip Grazie a Gabriele che mi ha fatto questa domanda e mi permette di fare un'altra pillola di DaVinci Resolve diamoci un'occhiata direttamente sul pannello Edit di DaVinci Ecco qui abbiamo la nostra clip della barca che arriva e il movimento di tilt del drone che si sposta verso lo skyline della laguna Ok a noi interessa andare a creare una speed ramp proprio di questa situazione quindi la prima cosa da fare è chiedere alla timeline di mostrarmi la velocità della clip quindi comando R o ctrl R per vedere lo speed change oppure pulsante destro e retime controls qui comando R Una volta che visualizzo la speed change avrò la possibilità prendendo la mia clip di stringerla o allargarla come e quanto mi pare vedete che sotto cambia la percentuale di velocità La cosa importante se non vogliamo andare a creare questi gap, questi buchi tra una clip e l'altra è quella di passare da modalità arrow a modalità trim in modo da poter tirarci dietro tutta la nostra clip Se non conoscete bene le modalità arrow e le modalità trim vi consiglio caldamente di dare un'occhiata al video qui sotto tutorial gratuito che trovate qui sotto di un'oretta circa in cui spiego dettagliatamente questo argomento ma soprattutto il corso completo di 4 ore su DaVinci Resolve che trovate sempre qui sotto in descrizione dove spiego ancora meglio questo argomento ma torniamo sulla timeline che cerco di spiegarvelo velocissimamente Dicevamo la modalità trim ci permette di andare a bloccare le clip successive precedenti alla clip stessa che ci stiamo muovendo la modalità trim è questa, la modalità arrow è questa Siccome a noi non interessa andare a velocizzare tutta la clip ritorniamo allo speed 100% e decidiamo tramite questo pulsante di andare a creare una speed ramp up from zero o down to zero partiamo da up from zero per esempio e vedete che cosa va a creare in automatico crea una clip che parte dal 10% passa al 30% passa al 50% passa poi al 70% e infine al 90% quindi andrà piano piano velocizzandosi partendo da 0 arrivando a 100 in questo caso a noi interessa farla al contrario quindi speed ramp down to zero quindi dal 90% dalla velocità normale inizieremo piano piano a rallentare la nostra immagine sempre di più sempre di più e piano piano arriveremo a una velocità che diventerà quanto meno scattosa perché non ho girato a 25 frame al secondo queste immagini però avremo questa situazione qua se ci interessa avere uno speed ramp di questo tipo la soluzione migliore è appunto pulsante destro speed ramp e si fa tutto in automatico io prediligo farlo manualmente quindi comando z per ritornare indietro e vado a crearmi uno speed ramp manuale pulsante destro sulla clip retime curve ed è qui che gestisco grazie ai miei amatissimi key frames se non avete visto le puntate due puntate sono qui sopra e gustatevele perché vale veramente la pena così capite che cos'è un key frame ma anche appunto sul reparto delle speed ramp possiamo utilizzare dei key frames magari che ne so partiamo da qui voglio avere la velocità normale fino a questo punto qua metto un bel key frame in questo punto dandogli questo pulsantino qui dopodiché voglio un altro key frame magari qui e voglio creare una velocizzazione nella parte centrale quindi prendo la mia parte centrale e la sposto indietro 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 magari fino a qui a 168% notate che tutte le clip mi sono venute dietro perché sono in modalità trim come vi dicevo prima qui sotto vi spiego meglio come funziona la trim e l'errow all'interno del corso completo play e velocizza la parte che ruota e rallenta nuovamente la parte finale da qui se vogliamo avere una morbidezza maggiore su questo movimento facciamo una cosa esagerata dai spostiamola ancora di più e vogliamo avere una morbidezza maggiore su questo elemento faccio un po' di zoom sulla timeline così si vede meglio vado ad ammorbidirlo con questo pulsante qui vedete che mi si sono creati questi due pallini ulteriori che io posso prendere e stirare per rendere ancora più morbida diciamo la transizione tra uno spostamento e quell'altro tra una velocità e quell'altra e tiro in questa maniera do un play da qui velocizza e rallenta di nuovo ve lo faccio rivedere velocizza hop e rallenta di nuovo va un po' a scatti quindi sfruttiamo magari un proxy non gli piace ancora gli diamo anche un render cache queste cose se non le conoscete ovviamente c'è un altro tutorial l'ulteriore che trovate qui sopra dove vi insegno anche ad utilizzare i render cache output fusion gli smart render e via dicendo ok ha renderizzato quindi guardiamoci la nostra clip che si velocizza e poi si rallenta nuovamente bene questo è la base di una speed ramp fatta in maniera automatica come vi ho mostrato prima oppure non tanto una speed ramp ma un cambio di velocità all'interno delle clip che vi può sempre aiutare non ve l'ho detto prima faccio comando z e torno indietro un po' di volte fino alla speed ramp precedente faccio una speed ramp da zero c'è la possibilità ovviamente di andare a modificare noi manualmente le speed ramp quindi nel momento in cui vogliamo andare a velocizzarle noi personalmente vedete che non c'è nessunissimo problema e possiamo andare a creare questi velocizzazioni o rallentamenti manualmente molto 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 comodo adesso ovviamente andrà a scatti perché non gli ho permesso di renderizzare però vedete che ci sono alcune parti al 275% alcune al 291% altre al 208% e poi l'ultimo pezzo in super slow motion al 9% anche in questa condizione possiamo grazie alla possibilità vedete di attivare questo pulsante che è già attivato andare ad ammorbidire o meno le rampe di morbidezza bene ah eccola qua l'ha preparata e vedete come in speed ramp lavora alla grande anche in maniera automatica abbiamo terminato anche questo velocissimo tutorial dedicato agli speed ramp e alle velocizzazioni dei clip spero che vi sia piaciuto anche questo video se vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e magari guardatevi tutti gli altri tutorial dedicati ad avinci resolve che escono ogni giovedì e ricordatevi di attivare anche la campanellina per rimanere connessi e aggiornati su tutte le uscite dei prossimi video che ci saranno e ricordatevi che l'appuntamento con me sul mio canale youtube qui è il martedì per le live in diretta in cui rispondo alle vostre domande in diretta appunto il mercoledì con le videoproduzioni e con i test e le recensioni dei vari prodotti che mi vengono inviati o che acquisto online qui sotto c'è anche il link al mio canale telegram che vi permette di seguire tutte le promozioni che cerco di beccare qua e là sulla rete il giovedì ci vediamo invece online sempre qui sul canale per le dvr pills quindi per le pillole di da vinci resolve a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti